Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Promulgata a Roma il primo novembre del 1950 appunto da sua santità Pio XII. Abbiamo due Pio quindi nei dogmi mariani, Pio IX e Pio XII che hanno fatto il terzo e il quarto dogma mariano. È singolare perché è stato un Papa devotissimo alla Madonna che era Leone XIII, il Papa del Santo Rosario, era veramente uno dei più grandi devoti della Madonna tra i pontefici di tutti i tempi. Non ha avuto la sorte di fare anche lui un dogma mariano, insomma questa è una piccola facezia introduttoria. Vorrei però seguire questa volta un pochino più dettagliatamente i singoli passaggi della bolla per mostrare un pochino anche meglio, anche per la nostra formazione, la struttura di un documento dogmatico. Quindi in base a cosa e quindi come opera un pontefice per definire un dogma. Questo non a scopo diciamo così didattico o didascalico perché a me che me ne importa insomma di una cosa di questo genere. Ma è importante che noi comprendiamo bene alcune caratteristiche, se preferiamo alcune dinamiche, della vita della Chiesa. Cioè un dogma non cala dal cielo così. Abbiamo già visto la volta scorsa, nelle puntate precedenti, che generalmente un dogma anche in questo caso è una esplicitazione di una verità implicitamente contenuta nella saga scrittura che poi nel corso della storia, dalla tradizione con la T maiuscola però, perché ci sono, bisogna fare sempre attenzione quando si parla di tradizione, quella con la T maiuscola, quella con la T minuscola che a volte quella, diciamo, non so con quale tipo di T definirla, insomma che diventa un difetto, insomma quando diventa tradizionalismo, no? Ecco, come tutti gli ismi nella Chiesa sono sempre negativi, ogni ismo è una unilateralizzazione di un punto, le unilateralizzazioni sono, io li chiamerei principi anticattolici per antonomasi, insomma, perché la Chiesa Cattolica ha sempre salvaguardato il principio dell'et-et, cioè l'una e l'altra cosa, non l'una o l'altra cosa, quindi o la tradizione o il progresso o la scrittura o il magistero, o la fede o le opere, tanto per raccordarci anche alla Santa Messa di ieri, no? Al caro San Giacomo Apostolo, cugino di Gesù che, ecco, onde rettificare anche come specifica San Pietro alcuni interpreti un po' ballerini, ecco, alcuni passaggi delle lettere paoline che c'erano fin dai primi secoli, prima di arrivare in età ben più avanzata, e dice, attenzione che la fede sola non basta per andare in paradiso, no? Quindi seguire i passaggi del Papa, quindi commentandoli, non semplicemente facendo una lettura scolastica, arida, di questo dogma, e poi vedremo, certamente, apriremo delle parentesi, specialmente quando si fa riferimento ad alcuni passaggi della Sagra Scrittura, aiuta molto bene a respirare quell'aria sana, quell'aria pura, che muove la vita della Chiesa e che deve diventare, insomma, anche un pochino un criterio di discernimento generalizzato, no? Cioè, noi viviamo nel 2018, quindi riposiamo nella vita di duemila anni di Chiesa con una montagna di santi, di fior di teologi, nel senso che non ci inventiamo nulla, non dobbiamo agitarci per nulla, insomma, quindi navighiamo in acque sicure, ecco, e il criterio fondamentale anche per le nostre scelte, per le nostre idee è sempre essere molto cauti, l'ho detto io non ho merito, essere sempre pronti al confronto, al dialogo, a mettersi in discussione, ecco, non avere posizioni apodittiche, rigide, precostituite, meno che mai, quando siamo convintissimi che abbiamo ragione, che siamo i detentori esclusivi della verità, cioè, ecco, immergersi in questo aiuta anche la nostra vita, no? Ecco, io, le suore sanno, insomma, probabilmente anche per questo mi chiedono di aiutarle un po', che amo sempre dare un taglio catechetico ai miei interventi, perché altrimenti, spiace in queste, con questi argomenti uno può fare una lezione cattedratica, insomma, di teologia dogmatica, insomma, ma penso che possa interessare a pochi addetti ai lavori, no? Quindi penso che sia sempre importante avere questa sollecitazione, ecco, che ci faccia calare anche queste cose, apparentemente un po' teoriche, nella vita di fede vissuta da noi come discepoli di Gesù. Allora, fatta questa piccola introduzione, un'altra piccola parolina introduttoria si può dire, che si tratta nuovamente di un dogma come quello dell'assunzione, definito, come si dice, ex cattedra, quindi senza riferimenti biblici espliciti. Ecco, e questo ci fa comprendere tante cose, ecco, anche il rapporto con la Sacra Scrittura, la funzione del Magistero, ecco, la funzione del Magistero, che è una funzione interpretativa autentica, cioè non novativa, cioè di invenzione di cose che non ci sono, ma di retta comprensione e di estrapolazione, proprio cioè esegesi, ex e, ex ago, etimologicamente, vuol dire tiro fuori da, cioè, quel tiro fuori vuol dire che devo fare un'operazione tale per farlo emergere alla luce, no? Quindi è importante ricordare questa funzione magisteriale da parte della Chiesa, è importante ricordarla, è importante riconoscerla, è importante rispettarla sempre, ecco, quale che sia, insomma, il successore di Pietro che si trova contingentemente, ecco, perché protempore, a incarnare, quindi a dover svolgere anche questa funzione ecclesiale. Poi dobbiamo affermare la stretta correlazione esistente tra il dogma dell'Immacolata e l'Assunzione, perché l'Assunzione è lo sviluppo ultimo dell'Immacolata Concezione, passando certamente per la testimonianza di impeccabilità de facto, cioè, quantomeno di fatto, non c'è son dubbio, che la Madonna ha avuto, quindi la custodia di quella pienezza di grazia ricevuta per miracolo nell'Immacolata Concezione da parte di Maria Santissima, e però da lei meritoriamente custodita con una vita indefettibile, ecco, e che ha poi originato, come vedremo, l'Assunzione al Cielo, cioè il compimento nella sola Maria Santissima di quelle promesse che sarebbero state realtà in tutta la razza umana se il peccato, come sarebbe dovuto accadere, non fosse entrato in essa. Tenete presente che il peccato di per sé, con la razza umana, non c'entra niente, non appartiene alla natura umana. Questo dobbiamo sempre ricordarlo, perché se il peccato appartenesse alla natura umana, vedete come si risolvono le... sono due le cose, o Gesù Cristo non si è incarnato, o il Verbo non si è incarnato, o il Verbo si è incarnato compromettendosi col peccato. È chiaro, no? Quindi quando noi facciamo un sacco di peccati e cominciamo a dire, ma questo è umano, calma, calma, questo non è umano, questo è diabolico questo qui. Questa è cosa che con la razza umana non avrebbe avuto, non avrebbe dovuto avere nulla a che fare. Quindi questo non dimentichiamolo, insomma, no? Quando si dice, nella quarta preghiera eucaristica, che la bellissima preghiera è un grande canto, insomma, al Fiat creante e al Fiat redimente, no? Bellissima, a me piace moltissimo anche la preghiera eucaristica 4, dice, condiviso in tutto eccetto il peccato e la nostra condizione umana, quindi la nostra condizione umana, quindi il peccato è entrato a far parte della condizione umana dopo il peccato originale, ma non della natura, non della natura. La natura umana è creata da Dio, e Dio quando crea le cose, le crea perfette, quindi è una cosa, e guardate che la grande conversione, la grande crescita, è quando noi cominciamo a percepire il peccato come un parassita, cioè come un male da cui mi voglio proprio liberare, cioè non è che mi tenta, mi seduce, ma che stiamo matti, ma è proprio una schifezza da cui sganciarsi in una maniera più risoluta possibile, no? Quindi questi due dogmi sono commessi tra di loro, ma sono anche in relazione al famoso rapporto tipologico, tra parentesi, prototipico, chiusa parentesi, tra Maria e la Chiesa. Vedremo poi come sempre al termine della trattazione le varie rilevanze, ecclesiologiche, cristologiche, antropologiche, maiologiche del dogma dell'assunzione, no? Quindi volgiamo l'attenzione sulla bolla a questo punto e seguendone gli sviluppi dette queste piccole premesse e cominciando quindi piano piano la lettura. Allora, la bolla si chiama Unificentissimus Teus, questo penso di averlo detto altre volte, noi sapete che i titoli dei documenti pontifici e magisteriali traggono sempre il nome dalle due prime parole, d'accordo? Pastore Eternos Dei Filius Dei Verbum Lumen Gentium e qui Munificentissimus Teus perché la bolla comincia con queste parole il Munificentissimo Dio che tutto può e le cui disposizioni di provvidenza sono fatte di sapienza e di amore nei suoi impersfrutabili disegni contemplano nella vita dei popoli e in quella dei singoli uomini dolori e gioie affinché per vie diverse e in diverse maniere tutto coopere in bene per coloro che lo amano questa è una citazione di quel bellissimo passo della lettera ai romani 828 tutto concorre al bene di coloro che amano Dio il nostro pontificato come anche l'età presente è assillato da tante cure preoccupazioni e angosce per le presenti gravissime calamità e l'aberrazione di molti dalla verità e dalla virtù siamo nel 1950 ma c'è di grande conforto vedere che mentre la fede cattolica si manifesta pubblicamente più attiva si accende ogni giorno di più la devozione verso la Vergine Madre di Dio e quasi dovunque stimola e auspicio di una vita migliore e più santa per cui mentre la Santissima Vergine compie amorosissimamente l'ufficio di madre verso i redenti dal sangue di Cristo la mente e il cuore dei figli sono stimolati con maggiore impegno a una più amorosa contemplazione dei suoi privilegi Dio infatti che da tutta l'eternità guarda Maria Vergine con particolare pienissima compiacenza quando venne la pienezza del tempo attuò il disegno della sua provvidenza in tal modo che risplendessero in perfetta armonia i privilegi e le prerogative che con somma liberalità riversato su di lei che se questa somma liberalità e piena armonia di grazie dalla Chiesa furono sempre riconosciute e sempre meglio penetrate nel corso dei secoli nel nostro tempo è stato posto senza dubbio in maggior luce il privilegio della corporea assunzione al cielo della Vergine Madre di Dio Maria questo privilegio risplendete di nuovo fulgore fin da quando il nostro predecessore Pio IX di immortale memoria definì solennemente il dogma dell'immacolata concezione dell'agusta Madre di Dio questi due privilegi infatti sono strettamente connessi tra loro Cristo con la sua morte ha vinto il peccato e la morte e sull'uno e sull'altra riporta vittoria in virtù di Cristo chi è stato rigenerato soprannaturalmente col battesimo ma per legge generale Dio non vuole concedere ai giusti il pieno effetto di questa vittoria sulla morte se non quando sarà giunta la fine dei tempi perciò anche i corpi dei giusti dopo la morte si risolvono e soltanto nell'ultimo giorno si ricongiungeranno ciascuno con la propria anima gloriosa ma da questa legge generale Dio volle esente la beata Vergine Maria ella per privilegio del tutto singolare ha vinto il peccato con la sua concezione immacolata perciò non fu soggetta alla legge di restare nella corruzione nel sepolcro né dovete attendere la redenzione del suo corpo solo alla fine del mondo spettacolo cioè in questo primo paragrafo che è un po' una grande introduzione vedete che il Papa ha già detto tutto rileggiamo alcuni passaggi numero uno come dire il Papa dice guarda stiamo vivendo tempi di molta sofferenza di molta tribolazione di molte calamità di molte calamità preoccupazioni ecco meno male che c'è qualcosa di bello a cui volgere l'attenzione tra cui ecco l'incremento della pietà e della devozione verso la Vergine Madre di Dio che certamente sarà poi rafforzato nelle sue intenzioni anche da questo da questa verità dogmatica no? pensiamo che già nel 1950 si parla di aberrazione di molti dalla verità e dalla virtù siamo nel dopoguerra quindi erano gli anni della ricostruzione il grande ottimismo la dolce vita insomma tutte queste cose qui e quindi cominciavano però a cominciavano a vedersi alcuni prodomi di una serie di tempeste ecco che sarebbero poi gradualmente a orologeria diciamo così scoppiate nel corso dei lustri successivi no? Pio XII ha visto poco insomma di di questo dovevo tanto come dire rintuzzare qualche focolaio pericoloso e esplosivo in campo teologico insomma però da un punto di vista però tenete presente che il concilio Vaticano II questo me lo ha raccontato insomma il nipote un parente di colui che allora era il cardinale vicario di Roma quindi il cardinal Traglia ai tempi del concilio una delle grosse preoccupazioni dei vescovi ai tempi del concilio era che era calata vertiginosamente al 60% pensate un po' la fluenza della messa domenicale ecco e bisognava fare qualcosa per tamponare questa questo questo callo tragico no? ecco questo callo insomma che purtroppo ancora oggi non accenna a diminuire anzi per certi aspetti insomma ci sono motivi di serena preoccupazione perché noi siamo sempre serenamente preoccupati non preoccupati serenamente ma mai turbati o spaventati ecco o abbattuti o depressi insomma no? ora l'altro aspetto importantissimo è che i doni fatti da tutta l'eternità da Dio alla Madonna furono sempre riconosciuti e sempre meglio penetrati nel corso dei secoli vedete questa visione fondamentale cioè che la Chiesa nel corso del tempo cresce nella comprensione dei misteri cresce ecco una crescita è una crescita reale d'accordo quindi nel senso che il suo patrimonio dogmatico si è arricchito ecco per cui San Giovanni Paolo II mi sembra nella Fides et Razio se non ricordo male quando cominciava a stigmatizzare alcuni mali di certi correnti teologiche contemporanee tra esse poneva l'archeologismo ecclesiastico cioè il pensare che la Chiesa dell'inizio era mitica cosa tra l'altro chi va ammesso tutti i giorni nei giorni scorsi starà letta la prima lettera ai Corinzi se uno legge la prima lettera ai Corinzi gli crolla subito il mito perché i Corinzi dedicavano tra loro perché chi diceva che era di Paolo chi di Apollo chi di questo poi dedicavano tra loro cioè davano scandalo perché purtroppo nella prima lettera ai Corinzi è riportato il drammatico caso di incesto poi c'era tutta quanta la questione degli idolotiti delle carni molate agli idoli che facciamo non ci andiamo non ci andiamo insomma no quindi tutta quanta questa idilliacità mitica capite noi tendiamo sempre a mitizzare ciò che non c'è più varidimensionata certo gli atti dei martiri sono delle testimonianze assolutamente edificanti ci fanno vergognare per come noi siamo oggi no ecco però quindi fermo restando che le mitizzazioni sono sempre sbagliate certo c'era un grande fervore dovuto ad una fede molto molto radicata molto molto vissuta molto molto capace di incidere fortemente questi ci credevano sul serio non è che ci credevano per scherzo per questo che andavano al martirio cantando però da un punto di vista come dire di comprensione e di approfondimento anche dottrinale cioè se voi parlavate con un cristiano non vi scandalizzate del primo secolo non vi poteva dire che durante la consagrazione accade la transustanziazione né che Gesù Cristo è presente nell'Eucharistia in corpo sangue anima e divinità così come è presente in cielo con l'unica differenza che occupa lo spazio attraverso le specie eucaristiche e non attraverso le membra fisiche come in cielo cioè forse se qualcuno è respirato ma cioè comunemente non si può cioè chiaro che tutti ci credevano che Gesù Cristo è presente nell'Eucharistia d'accordo ma non con questa chiarezza d'accordo perché questa chiarezza è venuta col concilio di Trento ecco appunto facendo copia e incolla dagli scritti di San Tommaso d'Aquino che è vissuto nel 1200 e il concilio di Trento è stato celebrato tre secoli dopo tra l'altro ecco quindi questo teniamolo sempre presente d'accordo teniamolo sempre presente la crescita nel corso del tempo della Chiesa non si rimane sempre fermi d'accordo rimanere sempre fermi fissi d'accordo non è un principio cattolico non è un principio cattolico contraddice il Vangelo verrà lo Spirito Santo che vi guiderà la verità tutta intera molte cose ho ancora da dirvi disse Gesù ma per il momento non siete capaci di portarne il peso piano piano d'accordo anche i tempi di Maria diciamo così sono venuti nel 1864 resta nel 1854 scusate la volta il dogma dell'Immacolata nel 1950 quello dell'assunzione il quinto dogma mariano il famoso quinto dogma non è stato ancora fatto e non non se ne parla in giro d'accordo io personalmente questa è una mia opinione personale penso che sarà fatto che si farà quando non lo sappiamo ma anche in tutte quante queste cose opera la divina provvidenza cioè la prima grande apparizione mariana quella che è data un pochettino in là al grande ciclo di apparizioni pubbliche e riconosciute parliamo di queste chiaramente perché oggi c'è un marasma che non finisce mai da parte della Madonna è cominciata nel 1830 con la grande apparizione di 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 prima ci fu quella grande apparizione che fu Guadalupe ma poi cioè se uno va a vedere tra le apparizioni riconosciute poi non parliamo delle montagne di apparizioni non riconosciute alcune apparentemente accettabili altre discutibili che ci sono di di Maria Santissima in giro no e da un po' di tempo a questa parte allora Dio come spiega bene San Luigi Monfort ha lasciato che ci fosse un tempo abbastanza cospicuo in cui ci si polarizzasse nell'attenzione sulla Santissima Trinità su Gesù Cristo sui sacramenti sulla Chiesa perché altre erano prima di fondare bene la dottrina trinitaria cristologica ed ecclesiologica e sacramentale d'accordo per evitare poi che come dire che tu guardi a mamma Maria che si deve guardare d'accordo ma ti dimentichi per esempio dell'Eucaristia cosa che la Madonna stessa non vuole d'accordo vuole che si guardi prima l'Eucaristia ecco d'accordo e quindi teniamole presente queste cose che è importante è importante ecco per comprendere un po' come funziona la vita della Chiesa e l'opera anche dello Spirito Santo in essa poi c'è un'altra c'è un'altra cosa un'altra cosa fondamentale il principio allora Gesù ha vinto il peccato e la morte e di questa vittoria sul peccato e sulla morte noi ne siamo partecipi in forza del battesimo tutti qui possiamo fare da subito esperienza della vittoria di Cristo sul peccato perché perché il battesimo ci toglie il peccato originale e il sacramento della penitenza ci toglie qualunque peccato attuale grave che noi possiamo aver commesso e la grazia santificante che realmente riceviamo attraverso i sacramenti concede a chi vuole a chi lo vuole realmente questa è dottrina della Chiesa di non peccare gravemente quindi il peccato mortale si fa e lo continuano a fare solo coloro che lo vogliono fare questo dobbiamo mettercelo bene in testa perché fino al punto di arrivare non soltanto a non commettere il peccato mortale cioè il peccato volontario in materia grave ma lo stesso peccato volontario quindi anche il peccato veniale volontario in materia lieve è alla portata di chiunque lo desideri perché Gesù Cristo il peccato lo ha vinto non per scherzo d'accordo certo che noi rimaniamo sempre peccatori cioè appena abbassi la guardia cioè tutte tante le passioni cose le debolezze che sono la conseguenza del peccato originale rimangono vive fino a quando siamo morti d'accordo e quindi la lotta è perpetua d'accordo ma io non posso fare un peccato senza che lo voglia fare quindi questa è anche una grande responsabilizzazione della volontà umana che la Chiesa ha sempre evidenziato e difeso e che è conseguenza della retenzione operata da Cristo cioè il peccato è l'istigatore del peccato Gesù Cristo li ha vinto quindi noi in Gesù Cristo il diavolo ce lo possiamo mettere come la Madonna a tutti i piedi non nel senso cioè nel senso che non ci lasciamo morsicare d'accordo il veleno mortale che il demonio c'estilla è il peccato mortale ma quello te mozzica solo se ti fai mozzicare tu ecco capito perché se vuoi puoi non farti morsicare invece la vittoria sulla morte spiega il Papa sarà solo alla fine dei tempi per legge generale Dio non vuole concedere giusti il pieno effetto della vittoria sulla morte se non quando sarà giunta la fine dei tempi e qui primo punto interrogativo cioè che questa poi è una verità confermata come vedremo anche dall'assunzione chi ascolta questa catechesi come c'è chiunque lo stia ascoltando in diretta o in differita in video o in mp3 deve chiedersi quando io la domenica ammessa dico aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà ma tu ci credi che quello stesso corpo per mezzo delle orecchie del quale adesso stai sentendo questa voce risorgerà non è un mito questo qui non è una favola d'accordo oppure sai come è brutta la morte dobbiamo adesso inventarci il lieto fine come nelle favole Cappuccetto Rosso la versione originale finiva in maniera drammatica perché Cappuccetto Rosso moriva divarato dal lupo travestito da nonna e ci fu uno che disse no 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 fermate mettici un lieto fine perché sennò quei ragazzini anziché essere i figati si traumatizzano allora spacchiamo la pancia alla nonna riesce Cappuccetto Rosso quindi la resurrezione non è così ci sarà che si sa abbiamo vabbè riportate l'anima un po' a poco mettiamoci pure questo la resurrezione è una verità di fede ciascuno con la propria anima gloriosa cioè i documenti del magistero della chiesa mi pare il laterano quarto adesso se non vado male dicono proprio lo stesso corpo che tu hai avuto in questa vita perché quello è il corpo tuo risorgerà più bello trasfigurato glorioso glorificato ma è il corpo tuo ok tuo tu ci credi? punto interrogativo ecco perché dentro questo orizzonte c'è già un primo livello di comprensione dell'assunzione da questa legge generale Dio vuole esente la beata vergine maria perché perché siccome ha avuto un privilegio singolare che noi non abbiamo avuto di vincere definitivamente perfettamente il peccato con la concezione immacolata e noi non ce l'abbiamo questo qui noi il battesimo ce l'ha tolto ma noi il vereno ce lo portiamo nel sangue non ce l'abbiamo avuto allora avendo avuto questo privilegio ha avuto anche l'altra eccezione di non restare nella corruzione del sepolcro né come tutti noi di attendere la redenzione del suo corpo alla fine del mondo ma anche il nostro corpo sarà redento capite cioè dietro poi la teologia della redenzione del corpo ci sono varie sfaccettature uno noi sappiamo che il corpo sarà glorificato se la nostra anima è diventata santa quindi sotto certi punti di vista noi dobbiamo restituire il primato all'anima rispetto al corpo e non andare a fare i matti cioè l'inversione dei valori di cui parlava Nietzsche che oggi è diventata realtà che la gente è stata davanti preoccupata della forma della fitness dei capelli delle sopracciglia dei cosi della chirurgia estetica dei peri tutto quello che te pare e le anime capito cioè facendo una follia quindi cercando di rendere questo corpo che comunque qui si si vede ancora che è un corpo fatto immagine di somiglianza di Dio il corpo umano è comunque un prodigio d'accordo se noi potessimo andare a fare un po' di giri nelle singole parti del nostro corpo già il prodigio che uno parla già il prodigio che uno ascolta sono leggi documentari insomma che succede con queste corde vocali oppure quando te senti un suono col timpano col martelletto tutto il processo dell'udito cioè veramente è un prodigio però un corpo corruttibile d'accordo e non va idolatrato poi si assiste però agli opposti fenomeni del corpo massacrato d'accordo sotto altri punti di vista d'accordo tra obesità peccate di gola che ne so fumo a più non posso d'accordo quindi gli ingesti diciamo così oppure sovraffaticamento stress lavoro pure da domenica è tutto un marasma d'accordo il corpo va trattato con consantità e con rispetto la salute va custodita cioè tutta quanto una serie di comportamenti vanno un attimo ben approfonditi eh cioè il mangiare troppo il fumare cioè le cose che certamente fanno male alla nostra salute vanno approfondite non per fare i salutisti o gli idolatri del corpo ma il corpo va tenuto bene in questo mondo per rispetto per chi l'ha creato d'accordo numero uno e anche perché io dovrò rimanere in questa tenda del corpo a servire il Signore e a fare quel poco di bene che riesco fino a quando Dio vuole ma se io per esempio fumo un autodermano di sigarette e mi ero in cancro ai polmoni e muoio a 50 anni una famosa domanda è la volontà di Dio che tu morissi a 50 anni io sinceramente c'ho qualche dubbio volontà di Dio permissiva non volontà di Dio intenzionale perché quello è un suicidio quello lì è un suicidio vero e proprio d'accordo e non puoi dire beh ma non tutti muoiono io conosco fumatori che sono arrivati a 85 anni quindi speriamo che mi vada bene e che l'argomento non regge insomma va bene chiusa la parentesi però noi oggi a mio avviso come cristiani dobbiamo dare testimonianza di come si tratta santamente il corpo cioè da un lato non deve diventare un soggetto di idolatria come è quasi sempre dall'altro non deve diventare un punging ball d'accordo io lo massacro in maniera poi però se c'è stato a fare un digiuno no al digiuno non si può fare perché poi si compromette la salute ma quale salute si compromette per fare un digiuno non succede niente non succede se uno non ha malattie non succede niente non succede niente se si fa un digiuno se si fa qualche qualche piccola mortificazione non succede niente succedono se fai altre cose d'accordo va bene proseguo la lettura andiamo al secondo paragrafetto per questo quando fu solennemente definito che la Vergine Madre di Dio fu immune dalla macchina di dare fin dalla sua concezione i fedeli furono per base di una più viva speranza che quanto prima sarebbe stato definito dal Supremo Magistero della Chiesa anche il dogma della corporea assunzione al cielo di Maria Vergine infatti si videro non solo singoli fedeli ma anche rappresentanti di nazioni province ecclesiastiche e anzi non pochi padri del concilio vaticano secondo del concilio vaticano primo scusate il concilio vaticano qui lo chiama chiedere con vive istanze all'apostolica sede questa definizione quindi capite fatto quello già dal concilio vaticano primo qualcuno aveva detto allora a quando l'assunzione i tempi della chiesa vedete anche se sono anche i tempi di Dio a volte sono un po' lunghetti no? dice presto ma presto sono 80 anni insomma che problema c'è dal 1870 al 1950 no? questa questo fattore tempo insomma anche nella vita della chiesa che è un po' un fattore che che Dio rispetta cioè interessante quando Gesù sale al cielo atti degli apostoli dicono ma è questo il tempo in cui ricostruirai il verbo il regno di Israele Gesù risponde non spetta a voi conoscere i tempi che i padri anche il padre si è avuto alla sua scelta no? oppure discernere i segni dei tempi queste sono cose che la chiesa attuale sta facendo diciamo di questa di questo mandato di Gesù di questa raccomandazione all'attenzione un importante diciamo come doveroso criterio di discernimento di ascolto di cercare di capire quello che sta succedendo no? ecco in seguito queste petizioni e voti non solo non diminuirono prosegue il papa ma aumentarono di giorno in giorno per numero e insistenza infatti per questo scopo furono promosse crociate di preghiere molti edesimi teologi intensificarono i loro studi su questo soggetto sia in privato che nei pubblici atenei ecclesiastici e nelle altre scuole destinate all'insegnamento delle sagre di Cibine in molte parti dell'orbe cattolico furono tenuti i congressi mariani sia nazionali sia internazionali tutti questi studi e ricerche posero in maggiore luce che nel deposito della fede affidato alla chiesa era contenuto anche il dogma dell'assunzione di Maria Vergine al cielo e generalmente ne seguirono petizioni con cui si chiedeva istantemente a questa sede apostolica che questa verità fosse solennemente definita finisco e dopo faccio notare qualcosa in questa piagara i fedeli furono nominabilmente uniti con i loro pastori i quali il numero veramente imponente rivolse erosimi di petizione a questa cattola di San Pietro perciò quando fumo elevati al trono del sommo pontificato erano state già presentate a questa sede apostolica molte migliaia di tali suppliche da ogni parte della terra e da ogni classe di persone dai nostri diretti figli cardinali del Sacro Collegio dai venerabili fratelli arcivescovi e vescovi dalle diocesi dalle parrocchie per la qualcosa mentre elevavamo a dio ardenti preghiere perché infondesse nella nostra mente la luce dello Spirito Santo per decidere una causa così importante impartimmo speciali ordini perché si fondessero insieme le forze e venissero iniziati studi più ricolosi su questo soggetto e intanto si raccogliessero e si fonderassero accuratamente tutte le petizioni che dal tempo del nostro predecessore Pio IX di Felice Memoria fino ai nostri tempi erano state inviate a questa sede apostolica circa l'assunzione della Beatissima Vergine Maria allora qui è chiaro ci sono anche come dire a mio avviso istruzioni per il futuro in questo passaggio allora anzitutto vorrei far convergere l'attenzione su un punto tutti questi studi a ricerche scrive il Papa posero in maggiore luce che nel deposito della fede affidato alla Chiesa era contenuto anche il dogma dell'assunzione di Maria Vergine al cielo attenzione nel deposito della fede era contenuto bisognava semplicemente solennemente definirlo cioè queste due bolle non creano nuovi dogmi perché c'è un principio nella Chiesa Cattolica che è semel verum sempre cioè quelle cose ci sono sempre state solo che ancora non si era accertata definitivamente la loro esistenza questo è importantissimo questo qui cioè perché un dogma fa parte essenziale del deposito un fidei del deposito della fede perché rivelato da Dio e la rivelazione insegna la Chiesa pubblica si è conclusa con la morte dell'ultimo apostolo quindi dire che la Madonna è assunta in cielo vuol dire che da quando lo dico diciamo che vale retroattivamente per sempre d'accordo anche se ovviamente quelli che sono vissuti prima della formulazione dogmatica e che avevano qualche dubbio non possono essere ovviamente tacciati come come eretici questo è un punto molto importante perché fa comprendere come l'attività magisteriale sia una operazione di riconoscimento di ciò che Dio ha già fatto numero uno numero due osserviamo il moltiplicarsi di richieste pedizioni eccetera eccetera ecco per cui voi sapete che il quinto dogma mariano è stato oggetto di menzione esplicita da parte di Maria Santissima stessa nelle apparizioni mariane di Amsterdam apparizioni mariane che sono state un pochettino Olanda la seconda metà del secolo scorso che sono state un pochino travagliate quindi sono state hanno oscillato tra alla fine però il vescovo ha riconosciuto la loro autenticità quindi c'è questo precedente e se non ricordo male adesso non mi ricordo se ai tempi di San Giovanni Paolo II o ai tempi di Benedetto XVI però io questa notizia ce l'ho ci fu un primo gruppo di cardinali credo che fosse quattro che cominciò a fare una petizione alla Santa Sede e di sollecito diciamo così a prendere in considerazione questa cosa e a cominciare a mettere in atto il processo quindi di studi di verifiche teologiche che possa portare alla definizione di eventuale quinto dogma questo lo possono fare tutti quindi se qualcuno ha a cuore il quinto dogma mariano comincia a scrivere qualche letterina tranquillamente lo possono fare tutti quanti alla Santa Sede dice noi vorremmo a sollecitare questa cosa ecco perché questo fa parte capite perché voi sapete che i fedeli non sono teologi d'accordo o maestri o dottori però ricordiamo sempre che c'è abbiamo parlato nelle puntate precedenti il sensus fidelium cioè se in coscienza un fedele illuminato dallo Spirito Santo sente avverte che questa cosa è cosa vera quinto dogma sapete che dovrebbe avere come oggetto la definizione di Maria Santissima dell'Immacolata Concezione parla dell'inizio della sua vita l'assunzione del termine poi la maternità divina parla della ragione di essere di Maria Santissima e la verginità perpetua sempre funzionale alla maternità divina come dire racconta quella caratteristica unica che la Madonna ha avuto e che spiega quanto è importante l'essere tutti di Dio ma la Madonna che è stata socia di Gesù questo lo dice chiaramente anche il concilio Vaticano II che ha cooperato la nostra redenzione in che senso in che modo sia quando era sulla terra sia ora che si trova in cielo punto interrogativo e voi sapete che un dogma dovrebbe avere come oggetto la corredenzione definire Maria come corredentrice e quindi in che senso lo è stata se lo è stata dobbiamo ancora dire lo stato attuale mediatrice di Grazia tutti sono d'accordo insomma di parlare della mediazione di Grazia di Maria si trova anche nella Lumen Gentium ma in che senso in che modo in che forma in che misura a che titolo e poi avvocata universale dell'umanità questo titolo secondo me detto fra me e voi a un Papa Francesco farebbe impazzire di gioia e sono sicurissimo che lui lo pensa senza nessun nessun dubbio conoscendo il particolare taglio della sua devozione mariana che è fortemente accentrata sul tema della maternità di Maria quindi la Madonna è avvocata del figlio sempre anche quando anche quando si tratta delle cause perse dipende sempre il figlio una mamma degna di questo nome quindi sono sicurissimo che su questo sarebbe certamente d'accordo non conosco i suoi personali orientamenti ma questo proprio traspare dalla ecco mi si passi insomma la battuta quindi possiamo leggere se tempo ancora si almeno introdurre l'ultimo paragrafetto e poi ci fermiamo dando appuntamento alla prossima settimana che ma poiché si trattava di cosa di tanta importanza e gravità li teniamo opportuno chiedere direttamente in forma ufficiale a tutti i venerabili fratelli nell'episcopato che ci esprimessero apertamente il loro pensiero perciò il primo maggio 1946 indirizzammo loro la lettera enciclica dei pare marie in cui chiedevamo se voi venerabili fratelli nella vostra esimia sapienza e prudenza ritenete che l'assunzione corporea della bellissima vergine si possa proporre definire come un dogma di fede e se col vostro clero e il vostro popolo lo desiderate date anche qui come dire l'umiltà no e proprio la la pastoralità con cui anche il papa che potrebbe fare tranquillamente da solo però opera ordinariamente no questo fa tutto molto molto comprendere anche come come si esercita l'autorità nella chiesa che non è mai autoritarismo è sempre servizio è sempre cioè accettare consigli accettare cooperazione capite sono i complessati quelli che vogliono fare tutti quelli da solo sono i repressi no sta roba non abita nella 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 chiesa di Cristo e così coloro che lo spirito santo ha costituito vescovi per pascere la chiesa di Dio hanno dato dall'una all'altra la domanda una risposta pressoché unanimemente affermativa e attenzione questo singolare consenso dell'episcopato cattolico e dei fedeli nel ritenere definibile come dogma di fede l'assunzione corporea della madre di Dio presentandoci il concordo insegnamento del magistero ordinario della chiesa e la fede concorda del popolo cristiano ad essa sostenuta diretta da se stesso manifesta in modo certo infallibile che tale privilegio verità rivelata da Dio è contenuta in quel divino deposito che Cristo ha fidato la sua sposa perché lo custodisse fedelmente e infallibilmente lo dichiarasse il magistero della chiesa non certo per l'industria umana ma per l'assistenza dello spirito di verità e perciò infallibilmente adempio il suo e le trasmette senza contaminazione senza aggiunta e senza diminuzione infatti come insegna il concilio vaticano sempre primo ai successori di Pietro non fu promesso lo spirito santo perché per sua rivelazione manifestasse una nuova dottrina attenzione ma perché per la sua assistenza custodissero inviolabilmente ed esponessero con fedeltà la rivelazione trasmessa dagli apostoli ossia il deposito della fede bellissime queste parole no? pertanto dal consenso universale di un magistero ordinario della chiesa si trae un argomento certo e sicuro per affermare che l'assunzione corporea della beata vergine maria al cielo la quale quanto la celeste glorificazione del corpo virginio e dell'agusta madre di dio non poteva essere conosciuta da nessuna facoltà umana con le sue forze naturali è verità da dio rivelata e perciò tutti i figli della chiesa debbano credere la confermezza e fedeltà poiché come insegna lo stesso concilio vaticano debbano essere credute per fede divina e cattolica tutte quelle cose che sono contenute nella parola di dio scritta o trasmessa oralmente o col suo ordinario e universale magistero propone a chiedere la chiesa come rivelate da dio di questa fede comune della chiesa si ebbero fin dall'antichità lungo il corso dei secoli varie testimonianze indizi e vestigia anzi tale fede si andò manifestando sempre più chiaramente quindi fedeli guidati dallo spirito e i suoi dei loro pastori appresero ben sì della sacra scrittura che la Vergine Maria durante il suo terreno per l'eclinaggio menò una vita piena di preoccupazioni angusti e dolori inoltre che sia verocio che il santo vecchio Simeone aveva predetto perché una putissima spada le trapassò il cuore ai piedi della croce del suo divin figlio nostro Redentore parimenti non trovarono difficoltà nell'ammettere che Maria sia morta come già il suo unigenito ma ciò non impedì loro di credere professare apertamente che non fu soggetto alla corruzione del sepolcro il suo sacro corpo e che non fu ridotto in putredine e in cenere l'austo tabernacolo del verbo divino anzi illuminati dalla divina grazia e spinti dall'amore verso colei che madre di Dio e madre nostra dolcissima hanno contemplato in luce sempre più chiara l'armonia meravigliosa dei privilegi che il providentissimo di Dio è allargito nell'alma sociale del nostro Redentore che hanno raggiunto un tale altissimo vertice quale da nessun essere creato eccettuata la natura umana di Cristo è stato mai raggiunto bene vedo che dobbiamo fermarci per quanto riguarda i tempi la prossima volta riprenderemo da qui due parole di commento insomma a questo ultimo terzo paragrafo e poi proseguiremo nel viaggio alla scoperta e alla comprensione del dogma dell'assunzione una santa settimana a tutti la mia benedizione Ave Maria e la mia benedizione